È una grande innovazione che abbiamo presentato oggi in Consiglio regionale, è uno studio che deriva da studi iniziali del 2016, quindi l'Università di Padua, che si è sviluppata nel corso degli anni e vede l'applicazione degli algi cosmici per l'individuazione sostanzialmente dell'umidità del terreno, che ha grandi applicazioni in vari campi, non solo in agricoltura, ma anche nell'individuazione dei movimenti franosi, nella siccità, anche negli incendi e poi anche nell'intervento importante, nelle perdite degli acquedotti, che sappiamo che è un grave problema, non solo in Italia ma in tutto il mondo. È un'applicazione che ha appena trovato uno sguardo nel mercato ed è diventata molto importante nel mercato in questo momento, ma fa risparmiare moltissimo dal punto di vista economico e anche in termini di tempo. Noi siamo particolarmente orgogliosi perché è un'idea che nasce dall'Università di Padua, dal nostro territorio e che poi è stata qui brevettata da delle aziende del nostro territorio e avrà grandi sviluppi nel mondo, come abbiamo visto anche di un video ufficiale della FAO, che è l'Organizzazione per l'Alimentazione Mondiale e questo ci rende particolarmente orgogliosi. Finap nasce con un obiettivo molto ambizioso che è quello di rivoluzionare il modo in cui viene misurata l'acqua. Lo facciamo tramite i raggi cosmici, queste particelle che naturalmente raggiungono la superficie terrestre, che ci permettono di misurare l'umidità del suolo senza dover toccare fisicamente il terreno. Il fatto di non doverlo toccare apre tantissime applicazioni perché possiamo misurare l'umidità del suolo in agricoltura, su vasta scala, senza disturbare l'agricoltura e ottimizzare l'utilizzo di acqua e l'utilizzo di fertilizzanti. Ma si passa direttamente a un ambito completamente diverso che è quello della ricerca delle perite idriche, perché misurare l'umidità del suolo sotto l'asfalto significa trovare i punti in cui l'acquedotto perde. La possibilità di misurare senza dover aprire i tombini, senza toccare l'asfalto, ci permette di farlo 50-70 volte più velocemente di quello che si fa ora. Porto l'esempio di Roma, dove l'acquedotto romano è molto lungo, sono più di 10.000 km, attualmente si riesce a controllarli con le tecnologie attuali in 5, 4, 5 anni. Riusciremo a farlo in 15 giorni grazie a questo tipo di tecnologia. Infine un'altra applicazione molto cara qua in Veneto è quella delle frane, del brisflo, delle alluvioni lampo, perché l'umidità del suolo su vasta scala è un driver fondamentale per l'innesco di tutti questi eventi che ahimè i cambiamenti climatici stanno rendendo sempre più attuali. I raggi cosmici l'unico modo per vederli, è anche un modo molto bello, perché se prendetevi l'aereo e andate in Lapponia, è l'aurora boreale. L'aurora boreale è generata da queste particelle che interagendo con le parti alte dell'atmosfera vanno a creare questo bellissimo spettacolo.